Buongiorno e benvenuti telespettatori di Le Fonti TV a questo speciale approfondimento realizzato da Le Fonti Legal in collaborazione con lo studio Isola Bella su un tema molto attuale e interessante, quello della sicurezza informatica. È in dubbio infatti che l'attuale emergenza sanitaria non abbia fatto altro che incrementare e amplificare un fenomeno che era già in atto da diverso tempo e che è stato fotografato più volte anche a livello statistico, da ultimo, prima appunto dell'inizio della crisi sanitaria, a fine 2020, ovvero quello appunto dell'aumento e direi appunto anche dell'esplosione degli attacchi informatici. Chiaramente appunto in questo anno e passa che ha scandito questa emergenza sanitaria, il mondo digitale è entrato a far parte, è diventato protagonista nella vita di tutti noi, come sappiamo, e chiaramente nella vita aziendale e diciamo che lo smart working o il lavoro agile ne è l'emblema principale. Di conseguenza le aziende si ritrovano oggi a dover gestire un livello appunto di rischio, di attacco informatico molto superiore al passato. Bene, grazie ai nostri ospiti di oggi, l'obiettivo appunto di questa tavola rotonda è proprio quello di fornire alle imprese una sorta di cassetta degli attrezzi per poter da un lato gestire in via preventiva e tutelarsi in via preventiva da un possibile attacco informatico e vedremo anche il ruolo chiave che riveste la figura dell'avvocato penalista in questo senso, ma vedremo anche come è possibile gestire la cosiddetta crisi, ovvero se effettivamente l'azienda si ritrova a subire un attacco informatico e vedremo anche l'importanza in questo senso del mondo assicurativo, cioè di avere una polizza adeguata. Bene, non mi resta che presentare i nostri ospiti di oggi che sono appunto l'avvocato Umberto Ambrosoli, studio Isola Bella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori. L'avvocato Francesco Isola Bella, studio Isola Bella, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie per averci invitato. Grazie a voi. In collegamento il dottor Michele Cogo, CEO di Defensys, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dottor Corrado Zana, Head of Cyber Risk Consulting di Marsh, buongiorno anche a lei. Buongiorno e grazie per l'opportunità. E il dottor Paolo Tagliabue, Head of Financial and Professional Risk di Marsh, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Ecco, avvocato Ambrosoli, io parto da lei e le chiedo, le lascio la parola, la palla, per spiegare un po' insomma questo fenomeno. Diciamo che è un fenomeno straordinariamente in evoluzione. Io mi sono laureato circa 25 anni fa con una tesi dal titolo della criminalità informatica nel settore bancario italiano. Era difficile trovare materiale. Da allora il mondo è cambiato straordinariamente da tutti i punti di vista e è cambiato anche la tipologia di crimini che si realizzano per il tramite dei sistemi informativi e i bersagli si sono ampliati. Certo è che le aziende sono diventate il destinatario di attacchi più gravi, più significativi. Tenete a mente, giusto per avere qualche numero, che l'anno scorso, cioè 2019, dati pubblicati nel 2020, l'incremento dei fatti di criminalità informatica secondo la Polizia Postale italiana era stato sull'anno precedente del 7% ed era stata del 91% rispetto al 2014. I dati che sono usciti quest'anno dalla stessa fonte dicono che gli attacchi nei confronti delle aziende e delle infrastrutture sono cresciuti nell'ultimo anno del 246%. Un complessivo di fatti di criminalità informatica portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria nel corso del 2020 superiore ai 98.000 in Italia. Il fenomeno su scala globale è incredibile ma va visto su scala globale perché rispetto a quando io ad esempio avevo fatto la mia tesi oggi gli attacchi arrivano quasi tutti dall'esterno, i più importanti sono dall'esterno, non c'è bisogno di essere un operatore del sistema informativo aziendale per poter realizzare una frode piuttosto che un tentativo di estorsione, piuttosto che un furto di dati all'interno in danno dell'azienda. È facilissimo essere dall'esterno, è consueto realizzare questi attacchi dall'esterno talmente dall'esterno che stiamo parlando di altri continenti, il che crea mille problemi, mille problemi in termini di giurisdizione, mille problemi in termini di identificazione degli autori, mille problemi nel inseguire i denari. Parliamo principalmente però di due tipologie di attacco per quello che riguarda le aziende, ovvero il furto di informazioni a scopo di estorsione o a scopo di vendita che si accompagna con altra tipologia di estorsione che si realizza per il tramite del blocco di sistemi informativi da una parte, dall'altra parte abbiamo le frodi, varie tipologie di frodi che si realizzano però tutte con uno stesso schema, l'accesso al sistema abusivo, i criminali stanno dentro il sistema abusivo per settimane, per mesi, monitorano le comunicazioni, capiscono come sostituirsi a chi è legittimato a dare delle disposizioni importanti e riescono a realizzare delle frodi che in alcuni casi hanno anche importi straordinari, 18 milioni di dollari, un caso importante, il dottor Kogo qualche giorno fa mi ha trasmesso un'informazione di stampa di un'estorsione per tornare al primo schema nei confronti di un'importante azienda internazionale, 50 milioni di dollari se pagano subito, sconto del 20%. Questo per dire che ci troviamo davanti a qualche cosa che è molto preoccupante e rispetto a qualche anno fa è cresciuta molto anche la sensibilità delle aziende. Tutti oggi sanno di poter essere destinatari di un attacco informatico ma questa consapevolezza così neutra da sola non dice niente perché non dice che tipologia di attacco, non dice che rischio, non dice che cosa è necessario fare per strutturarsi in reazione. Esatto e a lei Avvocato Isabella chiedo cosa è necessario fare per prevenire un attacco. Fra poco si celebra il ventennale dell'emissione, della promulgazione di una legge, di un decreto legislativo che è diventato sempre più famoso negli ultimi anni, il decreto legislativo 231 del 2001. Perché lo cito? Perché quel decreto che riguarda se vogliamo altro tema, forse un tema opposto, ovvero le modalità con cui una società deve ripararsi dei rischi che crea verso l'esterno ponendo dei protocolli preventivi, in realtà ha cambiato il sistema di compliance interesse delle società, ha cambiato il modo di vedere delle società. Questo cambiamento cosa comporta? La necessità per queste società, per tutti gli enti di fare una cosa e cioè ristrutturare i propri sistemi di controllo interni, non più per evitare che gli accada qualcosa dal punto di vista economico. Di solito una volta si cercava di monitorare i propri clienti per evitare di subire il default del cliente o i debiti del cliente. Oggi invece le società sono portate attraverso questo decreto, sono state portate negli ultimi anni a fare un ragionamento più introspettivo se vogliamo, cioè analizzare quali sono i rischi che la società crea per evitare che questi rischi si trasferiscono sul pubblico. Una sorta di trasferimento della responsabilità da uno Stato che non ha la capacità di intervenire ubiquamente, non ha gli strumenti soprattutto nel caso di un'articolazione particolarmente complessa delle società e trasferisce la società. Lo dico perché? Perché in questi vent'anni le società si sono abituate a fare questo, cioè si sono abituate a creare degli strumenti di controllo di questi rischi, quindi a creare dei protocolli che sono delle norme che la società si pone per fronteggiare questo problema. Ebbene è solo e unicamente attraverso questo strumento, cioè un'analisi interna delle problematiche e una individuazione di quelli che possono essere gli strumenti di protezione che la società può affrontare questo tipo di rischio. Ed è per questo che poi sono stati chiamati Defensis e Marsh perché più di altri riusciranno a spiegare dal punto di vista tecnico come questo verrà. Ma perché il penalista? Perché il penalista in questi vent'anni si è abituato a entrare nel cuore delle società da un punto di vista preventivo e non solo reattivo e attraverso questa prevenzione aiutare la società, accompagnarla ad analizzare il tipo di rischio e a puntualizzare il tipo di prevenzione. Devo dire che ci sono due tipi di rischi opposti tra loro. Uno il rischio che all'interno di un ente, di una società si annidino dei gangli di pericolo, cioè dei dipendenti di questa società, realizzino questa attività di frode, di acchiaraggio a carico di altri e quindi questo direi che è più facile, deve portare una società a capire come fare per evitare che i propri dipendenti realizzino questo. L'altro più importante e più difficile da difendere è il rischio che dall'esterno questi signori hacker possano penetrare. Ci sono due tipi di provenienza, una è una provenienza interna allo Stato, così posso definirla, l'altra è una provenienza esterna, diciamo interna all'Unione Europea e poi esterna. La mia è una distinzione puramente astratta perché la connotazione di questi rischi, come è stato più volte detto, appartiene sempre di più a sistemi quasi sovranazionali oppure parastatali, cioè a società o a gruppi di persone particolarmente organizzate in tal senso che operano magari in contemporanea da più Stati diversi, così rendendo sempre molto più difficile il riconoscimento della provenienza, l'individuazione e soprattutto la persecuzione di questi signori. Quindi per ovviare, poi magari vedremo, ma per ovviare a questo tipo di rischio è necessario porre una serie di regole che partono sì dall'interno ma poi si sviluppano esternamente con i propri interlocutori. Quindi c'è la necessità che i sistemi, i protocolli, le regole di difesa invadano, se così posso definirlo, anche quelli degli altri per far sì che un sistema meritorio, un imbuto positivo si realizzi attraverso i contatti e relazioni di società tutte volte a riparare questo rischio e non lasciano le singole società da sole. Perché una singola società da sola, per quanto possa essere grande e articolata, a meno che non si parli di Stati o di altri, difficilmente potrà ripararsi con successo da questi rischi, ma poi magari vediamo. Certo, assolutamente. Quindi diciamo che la 231 in questi vent'anni ha creato comunque una cultura della prevenzione che è molto importante. Dottor Cogo, l'Avvocato di Solabella ha anticipato il suo ruolo strategico come quello di tutti voi all'interno di questa tavola rotonda. Le chiedo, appunto, nel caso in cui l'attacco informatico vada in porto, come si gestisce la crisi? Allora, come diceva giustamente addirittura l'Avvocato Ambrosoli all'inizio, il problema più grande è che un attacco informatico, prima di venire scoperto, può impiegare 6-7 mesi. Quindi in questi 6-7 mesi, nella quasi totalità dei casi, è difficile recuperare l'origine del paziente zero. Quindi il lavoro più importante da fare subito è cercare di risalire con gli strumenti a disposizione all'origine dell'attacco informatico, e non sempre è possibile. In questo tutta la normativa attuale, GDPR, NIS, i modelli 231, il ruolo del DPO, cercano e definiscono adeguate misure di protezione lasciandole a carico delle aziende. L'azienda che deve individuare quali sono per lei le adeguate misure di protezione. E quindi il nostro ruolo, se non è quello di intervenire ex post, è quello di usare la nostra esperienza di tecnici informatici, che conoscono le palle che portano poi, soprattutto in periodo di smart working, all'incidente informatico, ultimamente moltissimi ransomware, quindi malware che criptano i dati, li rendono indisponibili. Utilizzare questa esperienza in prevenzione per integrare i modelli 231 e le adeguate misure di sicurezza affinché si sia in grado di gestire un incidente informatico che comunque non è a monte escludibile con il 100% della garanzia. Questa garanzia non esiste, come vediamo nelle cronache, direi è lampante che anche le più grandi società al mondo tecnologiche non sono esenti da questi attacchi e quindi cercare di portare l'azienda ad un livello sostenibile di sicurezza. Questo è un po' il nostro duplice ruolo. Una cosa importante è comunque, in entrambi i casi, essere un ponte tra l'azienda e l'aspetto legale più tecnico perché comunicare le azioni tecniche svolte durante un incidente informatico è molto importante visto la sempre maggiore presenza del garante privacy e del nuclear privacy. Quindi anche in quei momenti è importante comunicare correttamente quello che si è fatto e che si sta facendo. Certo. Ecco, dottor Zana, passiamo adesso proprio anche al ruolo che riveste il mondo assicurativo. Le chiedo come avviene e l'importanza anche che ha appunto il processo di tutela da parte vostra, delle vostre polizze. Ma diciamo che c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Si tratta certamente di instaurare all'interno dell'azienda un dialogo con almeno tre attori. Da una parte il broker o se vogliamo l'accesso al mondo assicurativo, internamente l'azienda almeno due figure, risk manager o responsabile assicurativo e il cosiddetto CISO, Information Security Office, cioè responsabile della sicurezza informatica oppure responsabile IT. Qualche anno fa questo dialogo si interrompeva quasi immediatamente, nel senso che il responsabile assicurativo chiedeva al responsabile di sicurezza informatica se poteva succedere qualcosa e quindi era necessario assicurarsi. La risposta era immediatamente no e finiva lì. Nel frattempo l'esperienza ha fatto maturare un po' tutti e quindi il dialogo diventa costruttivo e sostanzialmente si vanno a dipanare due argomenti. Innanzitutto cosa può succedere? Quali sono i cosiddetti crown jewels e i gioieri della corona a rischio all'interno dell'azienda? Quindi se è la continuità della produzione piuttosto che i dati personali dei clienti, eccetera. Quali sono i rischi che potrebbero emergere? Quali sono i scenari, quelli che gli assicuratori chiamano i worst case scenario, i scenari catastrofici, peggiori, che si potrebbero configurare? La seconda domanda che deve essere risposta, anche questo con l'aiuto del broker, è quanto può essere il massimo danno dal punto di vista economico e che percentuale può essere trasferita al mondo assicurativo. Perché è ben chiaro che certi danni cosiddetti reputazionali hanno una probabilità, possibilità di essere trasferiti minimamente altre tipologie di danno, come la cosiddetta business interruption, cioè l'introduzione dell'attività, può essere più facilmente trasferita. Poi parte a questo punto un dialogo con il mondo assicurativo, intermediato dal broker, ma che alla fine ha un cosiddetto underwriter, l'azienda assicurativa che deve qualificare il rischio. Soprattutto in questo periodo di tempo, poi magari Paolo entrerà più in dettaglio, dottor Tagliabue, siamo in un periodo di hard market, gli assicuratori si sono resi conto che stanno perdendo dei soldi nell'assicurare contro i rischi cyber le aziende, quindi non solo hanno aumentato il costo del trasferimento assicurativo, ma sono anche diventati molto più sofisticati nel comprendere come viene gestito il rischio, quali sono le contromisure organizzative, piuttosto che tecniche messe in atto. Molto spesso questo ai tempi avveniva con un questionario, adesso normalmente i grandi assicuratori internazionali preferiscono avere un cosiddetto risk dialogue, cioè un momento di confronto fra uno più assicuratore e le funzioni interne dedicate all'assicurazione informatica, quindi ancora il CISO e ovviamente il responsabile assicurativo e il broker. In quella fase si vanno a dipanare i dubbi, si vanno a chiarire quali sono le contromisori in essere, l'assicuratore sulla base di quanto capisce, fa le sue valutazioni e restituisce chiaramente un prezzo. Poi chiaramente, ripeto, non tutto viene assicurato, non tutto è assicurabile, il dottor Tagliabue entra più in dettaglio, credo, fra poco. E' certo che la sensibilità di tutti gli attori, a partire da risk manager a quello del responsabile della sicurezza informatica, gli assicuratori e così via, è molto, molto aumentata. Da quando, soprattutto, è stato citato prima il dottor Kogo, è nato il fenomeno dei ransomware, che ha cominciato a colpire massicciamente i clienti e quindi a creare, se vogliamo, anche la necessità, la richiesta di trasferimento assicurativo. Certo. Ecco, dottor Tagliabue, a lei l'onere di spiegare anche che tipo di polizze mettete in atto e anche se può dare un'idea, un quadro, di qual è la situazione attuale dell'azienda. Immagino che facciate anche delle due diligence all'interno dell'azienda per capire anche le tipologie di rischio a cui sono esposte. Esatto. Diciamo che esistono polizze sul mercato assicurativo che si chiamano cyber o anche cybercrime che sono costituite da due principali aree di copertura. Una copertura per i danni propri e una copertura per i danni a terzi. Come diceva il collega Corrado, la copertura per i danni propri è una delle coperture più importanti perché tutela tutti i costi e spese relative a un attacco cyber, quindi i costi degli avvocati, degli investigatori, dei tecnici specialisti, i cosiddetti Forensic e via dicendo. Ma copre anche tutti i costi relativi all'interruzione di attività, relativi quindi anche alla perdita di profitto, l'ordo e all'aumento del costo del lavoro sostenuti dall'assicurato derivanti appunto da un'interruzione di attività che a seguito degli attacchi RANS di cui parlavamo precedenza sono ovviamente la componente più importante. vi è tutto i costi relativamente alla protezione dei dati personali, quindi i cosiddetti data breach. Ci sono aziende che sono più esposte, che si assicurano, vogliono assicurarsi dal rischio cyber per il data breach perché detengono un numero elevato di dati personali, di aziende o di clienti, nonché invece altre che invece sono più esposte al rischio di business interruption. Quindi le due diligence assicurative che andiamo a fare sono proprio per tarare il massimale assicurativo in maniera corretta per le esposizioni che le aziende hanno. Ci sono anche tutti i costi relativamente all'estorsione. E poi c'è tutta la parte di danni a terzi, quindi la cosiddetta della parte di responsabilità civile verso terzi. Una interruzione di attività o un data breach nel 80% dei casi portano anche a richieste di accedimento da parte di terzi. Abbiamo il caso di un cliente poche settimane fa che ha subito un attacco di data breach, sono entrati dal loro sistema informatico e hanno rubato cartelle cliniche per un numero elevatissimo di dipendenti. Questo non in Italia ma all'estero, lo racconto perché comunque è un caso abbastanza pubblico. E adesso ci saranno richieste di esarcimento da parte di ospedali contro il cliente che non ha avuto un sistema informatico adeguato e adesso le cartelle sanitarie di queste persone fisiche sono in mano degli hacker, li hanno pubblicati su siti di dark web e anche online. Il settore è veramente, come diceva Corrado, sotto attacco. Gli assicuratori hanno iniziato a stipulare e a presentare queste polizze assicurative ormai 4-5 anni fa il mercato è stato completamente in crescita con dei prezzi molto bassi per assicurarsi e nell'ultimo anno ci sono stati dei sinistri enormi anche sul mercato italiano e parlando con degli assicuratori nelle scorse settimane loro hanno la cosiddetta combine ratio, cioè il rapporto sinistri su premi sottoscritti che è negativo perché i premi che hanno sottoscritto non stanno pagando i sinistri che hanno invece in gestione ricordando una cosa fondamentale quando vi è un attacco hacker e l'azienda lo notifica all'assicuratore è sempre un sinistro a differenza di altre tipologie di polizze che magari potrebbe essere una circostanza non si sviluppa l'ho notificato però posso anche evitare di coprirlo eccetera l'attacco hacker è un attacco e quindi vi saranno dei costi propri sicuramente probabilmente anche dei costi relativamente a richiesta ci viene da parte di terzi quindi quello che si stima è un mercato in evoluzione completa nel 2018 a livello mondiale il mercato cyber valeva 5 miliardi le polizze assicurative intendo e si stima che nel 2025 si arrivi a 20 billion il mercato europeo ne vale adesso 2,5 con una stima di crescita fino al 2025 di circa 5 billion e solo 4 anni fa ne valeva solo 600 milioni quindi capite come è una polizza che probabilmente ce l'avranno tutte le aziende e anche tutti i privati perché si stanno iniziando anche a sviluppare delle polizze cyber personali a tutela delle persone per il proprio smartphone il proprio conto corrente e gli accenni Certo, insomma adesso poi vedremo anche qual è stato proprio l'impatto della pandemia su questi numeri all'interno appunto della seconda parte della tavola rotonda Bene, rieccoci e quindi Avvocato Ambrosoli io cedo la parola a lei e le chiedo appunto di fare un po' il quadro sull'impatto che ha avuto effettivamente questa pandemia sul rischio appunto di attacchi informatici Banalizzando molto e con le connessioni che sono necessariamente dovute intervenire ai sistemi aziendali dalle utenze domestiche dai telefonini di chi in azienda non poteva più andare si è ampliata la superficie d'attacco cosa che rende molto più difficile proteggere il perimetro del sistema informatico aziendale quindi si sono aperte devo dire necessariamente le porte che prima erano blindate proprio banalizzando molto e questo che cosa ha portato? Ha portato a un numero di attacchi straordinariamente superiore però attenzione perché non è l'unica variazione che è intervenuta nel corso degli ultimi tempi se noi vediamo la vicenda che ha riguardato Campari quella che ha riguardato Geox quella che ha riguardato Luxottica quello che ha riguardato il comune di Rieti ci rendiamo conto che sono aumentate di molto anche le richieste economiche da parte degli estorsori è stato calcolato che nell'ultimo anno sono cresciute del 46% come importi e questo è frutto anche paradossalmente della capacità delle aziende di difendersi cioè le aziende che hanno imparato in alcuni casi a copiare rispetto al rischio blocco sistemi informativi a copiare i propri dati con grande velocità in maniera tale da riuscire a recuperare i dati immediatamente precedenti all'attacco e a ripartire con sistemi tra virgolette puliti hanno portato gli estorsori gli hacker sotto forma di estorsori a dire grazie ma quando blocchiamo i sistemi intanto rubiamo tutti i dati così la nostra richiesta economica non sarà semplicemente quella di pagaci se no non riparti ma sarà anche quella del pagaci perché se no non riparti e noi diffondiamo i tuoi dati ecco che allora paradossalmente la figura del penalista diventa importante nel momento in cui un attacco si va a sviluppare perché se l'avvocato è per definizione l'esperto della responsabilità beh il penalista è l'esperto anche della valutazione della gravità della responsabilità e giustamente è stato osservato prima che c'è un pezzo di responsabilità che riguarda l'azienda nel momento in cui i dati che le vengono prelevati sono potenzialmente diffusi e allora coinvolgere immediatamente il professionista non solo quello tecnico informatico per ripartire ma anche quello che valuta la gravità della responsabilità serve per capire come meglio reagire rispetto all'insieme di insidie che da un attacco informatico discendono anche perché ad esempio sarà per buona fede o per speranza in alcune circostanze alcuni possono essere indotti a pagare nel convincimento che questo risolva il loro problema ma quel pagamento il più delle volte rischia di essere l'inizio di un nuovo pezzo di problema perché non si ha la garanzia in nessun modo del fatto che i dati vengano restituiti che effettivamente non vengano pubblicati e se non si fa un'analisi attenta di quali sono le conseguenze di una potenziale pubblicazione di quei dati molto più attenta rispetto a quella che l'immediata disponibilità degli stessi muove al pagamento beh si rischia di mettersi in un guaio molto maggiore assolutamente avvocato Isarabella le chiedo appunto di proseguire questo discorso e di raccontare anche qual è il ruolo del penalista in chiave preventiva allora come dicevo prima ho richiamato la 231 e la 231 è necessariamente un punto di riferimento perché la 231 offre un percorso e questo è un percorso che va seguito sin dalla fase preventiva la fase preventiva significa mettere il naso dentro la società in funzione di regia perché la funzione di regia? perché i sistemi di protezione i ripari che la 231 ci ha insegnato appartengono alla cultura penalistica sia come forma di accertamento della responsabilità sia come forma quindi di riparo e di predisposizione di questi strumenti sia come risk assessment di cui hanno parlato prima e sia come modalità di approntare un risk assessment i fini soprattutto allora se è vero che la carenza o la insufficiente predisposizione dei sistemi di protezione della società non determina di per sé necessariamente non in previsione diretta una responsabilità della società e dei suoi esponenti ma al limite una responsabilità di natura civilistica per non averli approntati l'estremizzazione di questa tra virgolette incuria può portare delle conseguenze un pochino più gravi prova a spiegarmi se io chiudo la porta di casa mia con il miglior sistema del mondo mi entra in casa chiamo la polizia dico perbacco se io non so dove abito e non so chi c'è di fianco i rischi che coro chiamo un signore che in questo caso è il penalista e mi dice cosa devo fare secondo te io dico guarda devi mettere una porta blindata non devi mettere la porta blindata poi le finestre le guardie i cani lupi nulla se io gli spiego che dovrebbe mettere una porta blindata prendere i cani lupi e magari anche avere un telefono diretto con la polizia e questo non gliene importa assolutamente niente perché mi spiega che ha tutta la sua vita abituata tenendo la porta aperta perché così vive e i ladri entrano tutti belli tranquilli e fanno dei danni magari fanno anche dei danni alle persone fisiche ecco io vedo un rischio lo chiamavano di dolo eventuale cioè vedo una configurazione un'accettazione del rischio da parte della società e un disinteressarsi di questo rischio quindi con la sua accettazione con il che c'è il rischio perdono il gioco di parole che una responsabilità anche penale possa essergli addebitata è una sorta di deiure condendo o perlomeno di sviluppo potenzialmente futuro ma io non posso accettare che il titolare di una società che può determinare i rischi di vario tipo se io tengo farmaci se io tengo i dati sensibili di alcune persone se io tengo i dati sensibili anche come cura determinate persone e arriva qualcuno e mi blocca tutto e non riesco a fare nulla e non riesco a portare i farmaci dove devo portarli magari sono farmaci di salvavita non riesco a operare ecco che i danni che questa situazione si crea possono essermi addebitati non solo in termini di responsabilità civile ma anche penale perché io pur dovendo portare un farmaco salvavita là non ho messo tutti i dati che servivano a questo mio compito al sicuro in maniera compiuta è un'estremizzazione ma è un'estremizzazione fondamentale ed è qui quello che io torno a quello che dicevo prima cioè la cura anche dei rapporti con le altre società col mondo esterno la cura io per qualsiasi tipo di società qualsiasi tipo di entità che corre questi rischi quindi che manovra maneggia una serie numerosa di dati magari sensibili dovrebbe avere cura che chi ha relazioni con sé abbia la stessa cura e le stesse attenzioni nel predisporre le misure di sicurezza e le misure di sicurezza devono potersi parlare tra di loro quindi se io riesco se io società riesco a operare con tutta una serie di altre società accessorie alla mia attività necessarie anzi alle mie attività con lo stesso linguaggio e tra virgolette obbligandoli o facendo in modo che i loro sistemi i loro presidi parlino con i miei ecco che la catena diventa molto più semplice ed ecco che laddove invece ho un impedimento trovo un impedimento trovo chi non è disposto eventualmente a dialogare con me come sistema di sicurezza probabilmente lì c'è un elemento da approfondire ed ecco che allora anche in questo settore vigila trasparenza dovrebbe vigila trasparenza laddove c'è una trasparenza e dove si riesce a penetrare con facilità i rischi sono calano dove invece si creano dei problemi di trasparenza o dove non c'è disponibilità ad accettare le regole si possono creare dei problemi che uno deve però trovare in modo di superare questo è il tema ma l'ultima pongo una domanda in particolare agli assicuratori chiedendo se nell'attivazione di questa sorta di risk assessment quindi nella predisposizione dei rischi fossero disposti a scendere in campo con i professionisti cioè col tecnico e col e col del del tecnico del presidio e col tecnico del diritto per attenuare i rischi finanziari o per porre per aiutare a capire quale blindatura va fatta in quella determinata casa per far sì che i rischi siano siano più presidiati e magari i costi siano più più contenuti assolutamente non mancherò trasferirò appunto questa domanda alla diciamo la parte assicurativa cosiddetta però ora do la parola al dottor Kogo e volevo parlare anche in questo caso di sinergia insomma come avviene la sinergia tra appunto la parte tecnico-informatica e la parte legale e poi vedremo come avviene la sinergia anche con la parte assicurativa prego dottor Kogo allora con la parte legale la sinergia tocca tre aspetti fondamentali sicuramente la parte penale la parte legata al mondo della 231 in cui la cosa diciamo a nostro avviso più interessante è mettere sotto stress il modello 231 dal punto di vista tecnico quindi vedere se quello che c'è corrisponde a quelli che sono i nostri indicatori di compromissione se quello che c'è può reggere effettivamente agli attacchi che sono in corso più recenti e se questa tipologia di attacchi può essere ricostruita e esposta dall'azienda come dicevamo prima o meno quindi la parte penale sempre legata al modello 231 per noi come stress di quello che l'azienda ha individuato come diciamo come modello 231 poi ci sono due altri aspetti molto grossi legati invece alla tutela della proprietà intellettuale e al contenzioso di lavoro quando c'è un attacco informatico ovviamente l'esfiltrazione di documenti soprattutto magari da parte di interni all'azienda può portare a dover giustificare le adeguate misure di protezione quindi proprio a tutela del know-how che è stato sfiltrato e in questo caso ci sono tutte delle valutazioni in cui il nostro supporto tecnico è di aiuto ai legali diciamo per giustificare questa adeguatezza delle informazioni della tutela delle informazioni e infine il contenzioso giustilavoristico quindi comunque la parte legata al furto di dati da parte dell'indipendente con che c'è il trazione di dati necessita di essere provata con un elemento digitale che deve essere trasformato in prova e questo è il cuore di una perizia forense certo assolutamente dottor Zana appunto come detto in precedenza e trasferisco la domanda che le pone l'avvocato Isola Bella se può appunto realizzarsi una sinergia tra mondo assicurativo e mondo legale certamente il mondo legale è molto presente sulla sulla componente di rischi cyber per ovvi motivi legati a quello che i colleghi hanno detto in precedenza e quindi in particolare nell'area della data protection della privacy il ruolo del legale interno ed esterno come advisor dell'azienda è sempre rilevante chiaramente la dimensione dell'azienda porta ad avere un supporto più spinto dalla componente legale quando andiamo a che fare con una grande azienda c'è sempre un ruolo importante del legale in caso di sinistro tant'è vero che diciamo nel mondo agglossasso ne è nata questa figura professionale del cosiddetto bridge coach che siede in una azienda legale in uno studio legale e supporta il cliente nel gestire i rapporti con con le autorità della privacy piuttosto che con i clienti e chiaramente anche con l'assicuratore diciamo che il ruolo del legale nella fase di gestione del sinistro è probabilmente un ruolo guida il che cosa vuol dire che preparandosi è quello che noi chiamiamo incident response preparedness cioè per potersi preparare adeguatamente alla gestione di un eventuale danno di un eventuale sinistro devo far tesoro in maniera preventiva dei suggerimenti di un ruolo legale addirittura in certi certe aziende ci chiedono di effettuare una cosiddetta cyber crisis simulation a livello di board quindi simulare in un ambiente chiaramente confortevole in una sala riunioni cosa potrebbe succedere in conseguenza di un data breach di un ransomware e quali sarebbero chiaramente gli impatti operativi ma soprattutto legali è chiaro che il cliente collocato in un paese di anglosassone dà una rilevanza al ruolo del legale ancora maggiore di quello che succede diciamo nel nostro mondo in sud Europa comunque sempre in questa fase in questa simulazione di crisi la funzione del legale nel definire quali sono i punti che poi devono essere devono servire a definire un cosiddetto playbook un piano di risposta alla crisi è fondamentale ecco io vorrei appunto concludere questa tavola con un esempio pratico e chiedo appunto aiuto al dottor Tagliabue in questo senso prima appunto l'avvocato Ambrosoli sottolineava il fatto come appunto si è aumentato l'importo medio di richiesta di riscatto del 46% e chiedo a livello assicurativo come vi comportate in caso appunto di vi troviate di fronte a un'azienda che ha ricevuto una richiesta di riscatto Certamente io quello che cercherei di distinguere prima di tutto è tra il pagamento del riscatto e la gestione del sinistro invece relativamente all'estorsione quindi al ransomware come sappiamo in Italia è vietato assicurare i rappamenti riscatti ed estorsioni in base ad una legge di svariati anni fa qua si parla però di riscatto in termini di dati alcune compagnie assicurative però soprattutto le italiane prendendo diciamo alla lettera diciamo la legge italiana tendono ad escludere completamente la questione diciamo relativa al pagamento dei riscatti anche in ambito cyber quello che però è sotto diciamo perché sotto un punto di vista puramente diciamo tecnico loro ritengono sia un incentivo al crimine quello che però tutte le compagnie coprono sono i costi e le spese relativi all'attacco cyber e quindi al gestione del riscatto in termini di ransomware quindi nei casi abbiamo avuto pensate che nel 2019 come Mars Italia abbiamo avuto solo 5 sinistri in ambito ransomware in ambito quindi riscatto di dati elettronici diciamo di mail e dati sensibili nel 2020 ne abbiamo avuti 44 quindi dei numeri che come dire sono bassi però dovete considerare che anche le società che hanno polizze cyber sono ancora poche quindi il mercato come dicevo nell'intervento precedente sarà molto in evoluzione nei prossimi anni come numero di polizze stipulate quindi avremo un aumento dei sinistri gestiti da polizze assicurative quindi non solo un aumento dei sinistri perché ci sono un aumento degli attacchi hacker bensì anche per questo per questo motivo quello che gli assicuratori esteri invece fanno è che comunque forniscono anche la possibilità di pagare il riscatto ovviamente anche per loro non vuole essere un incentivo al crimine però abbiamo avuto come forse ricorderete i casi del cosiddetto crypto locker i casi del crypto locker erano attaccavano o piccole medie imprese oppure c'è stato anche i casi di piccoli studi di avvocati notai che hanno avuto degli attacchi cyber avevano le polizze assicurative cyber il riscatto era 1000 euro a computer quindi come potete ben capire per l'assicuratore conviene pagare 10.000 euro per questo avvocato che aveva 10 computer di 10 dipendenti e pagare 10.000 euro e farsi ridare indietro i propri dati e le proprie chiavi per riavere indietro i dati piuttosto che spendere magari migliaia di altri euro in costi di forensic di investigatore di cyber security e via dicendo ovviamente cosa diversa è se chiedono riscatto da 50 milioni di dollari o di euro come era l'esempio in precedenza dei colleghi dove lì prima di andare a pagare un danno del genere ovviamente si tentano tutte le strade possibili di ricerca del recupero dei dati in altro modo bene io vi ringrazio per essere stati con noi per aver creato questo interessante dibattito abbiamo visto che siamo di fronte insomma a un'onda che insomma l'unico modo per riuscire a fermarla è creare come avete dimostrato voi delle task force di professionisti ognuno con la propria professionalità appunto che si pongano in aiuto delle imprese sia in chiave preventiva sia in chiave poi di gestione del rischio e dall'altro lato chiaramente le imprese devono aumentare insomma la loro cultura e insomma la loro pratica preventiva per non trovarsi poi insomma dover mettere delle toppe ad anno già avvenuto bene grazie di nuovo ai nostri ospiti l'avvocato Umberto Ambrosoli grazie a voi l'avvocato Francesco Isola Bella grazie a voi grazie dottor Michele Cogo grazie grazie al dottor Corrado Zana grazie grazie a voi e grazie al dottor Paolo Tagliabue grazie mille per l'invito e grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati con noi e buon proseguimento sulle fonti tv grazie a voi grazie a voi